Grande fratello 16. Francesca De André tradita dal suo fidanzato Giulio.Di domanda.Il quinto appuntamento del grande fratello 16 previsto per lunedì sera 6 maggio 2019 in prima serata su Canale 5, si preannuncia scoppiettante In occasione del talk dedicato al Real Edition e la puntata di Domenica Live, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti hanno parlato del presunto tradimento ai danni di Francesca De André Sembra, infatti, che Giorgio l'abbia tradita con una bionda che a quanto pare sarebbe una fashion blogger A confermare il tutto ci ha pensato l'ex Geffino Biagio Dainelli che di sua iniziativa ha commissionato dei paparazzi per seguire i due Gf16. Daniele Interrante entra in casa.Con molta probabilità nella nuova puntata del Grande fratello 2019, lei di Cologno riferirà a Francesca De André il pettegolezzo da giorni serpeggia sul web Quale sarà la reazione della sorella di Fabrizia? In più la ragazza avrà la possibilità di avere un confronto con l'ex compagno Daniele Interrante L'ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato dal Grande fratello per avere un chiarimento sia con la De André sia con l'ex consorte Guendalina Canessa, da una settimana ospite del reality show targato, in De Monscine Itali Inoltre ci sarà spazio anche per quello che sta nascendo tra Francesca e il modello partenopeo Gennaro Lilio Grande fratello 2019. Chico Nalli nel mirino, il messaggio del figlio e della Cipollari Nella quinta puntata del Grande fratello 16 in onda lunedì 6 maggio si tornerà a parlare ancora una volta della vita privata di Chico Nalli Dopo che l'herstilista e Ambra Lombardo si sono scambiati dei baci appassionati in casa, l'ex Tina Cipollari e uno dei loro tre figli, hanno rilasciato delle dichiarazioni abbastanza dure che sicuramente faranno riflettere il parrucchiere romano Infine veremo a conoscenza chi lascerà la casa di Cinecittà tra Daniele, Cristian, Chico, Serena e Mila e chi saranno i prossimi nominati Grazie a tutti